dovevamo per forza visto il recente passato qualificarci e quando ci sa il fiato sul collo di tante situazioni come si è avuto noi in questo periodo non è facile non è facile poi subentrare fare subito le scelte giuste perché delle cose l'ho imparate poi dopo che che sono entrato dentro a questo nuovo lavoro ora penso di sapere qualcosa di più ho accettato di parlare di venire a fare questo ruolo per qualificarmi non per trovare delle scuse poi su un eventuale non qualifica per cui io sì sono soddisfatto perché poi dopo un risultato così ti dà veramente la possibilità di lavorare ora il lavoro vero inizia adesso praticamente abbiamo trovato un'Ucraina fortissima che che ha fatto il suo dovere fino in fondo perché poi noi questa partita qui la devi portare a casa anche in questa maniera qui pur valutando che si è provato si è provato a giocare e ce la saremo meritata nel primo tempo io mi sarei aspettato qualcosa a sorpresa contro l'Inghilterra cosa che non ci sono riuscito a fare e avevamo necessità del sostegno di un risultato che ci riportasse nel calcio che conta e ora l'abbiamo ottenuto perché perché come hanno detto tutti insomma un europeo senza senza l'Italia sarebbe stato difficile poi andare a creare presupposti importanti di crescita insomma ecco